Sulmona vuole far sentire la sua voce a Roma contro il caro pedaggio e per la messa in sicurezza dell'autostrada 24-25. Stanno arrivando le prime adesioni all'appello lanciato dal sindaco di Sulmona, Ana Maria Casini, che ha chiamato a raccolta il territorio, ma al momento la risposta non è che sia poi così massiccia. C'è ancora tempo per aderire alla mobilitazione e scendere in piazza. Il nostro territorio montano è gravato alla crisi economica e riteniamo sia necessario attuare un potenziamento nel sistema dei trasporti, ad oggi obsoleto, per renderlo maggiormente efficiente ed efficace. Questo in considerazione anche di un incremento del turismo e rilancio dei nostri territori, interviene il sindaco Casini. Chiediamo che vengono applicate adeguate politiche tarefari e di lunga durata, a vantaggio dei pendolari che quotidianamente utilizzano le autostrade per motivi di lavoro, di studio, di salute e di tutti i viaggiatori per contribuire allo sviluppo delle nostre aree interne, conclude invitando i sindaci del comprensorio a prendere parte alla manifestazione, in programma per domani 5 dicembre alle ore 10.30 a Roma. L'assessore comunale Antonio Angelone si appella invece ai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza perché è una problematica che coinvolge tutti al territorio, ai sindacati, alle associazioni per partecipare alla mobilitazione.